Ecco, siamo di fronte al nuovo hotel di Patong, che è un bellissimo hotel che si trova qui sulla via secondaria a Patong. Questo è l'hotel con le caratteristiche forme cinesi. Ecco, qui all'esterno abbiamo questo cambio. Questa è la vista. Ora andiamo verso la hall. Il hotel è molto caratteristico. Questa è la grande hall che vediamo. Ecco, questa fa parte, come detto, del gruppo Novo Hotel. Abbiamo un high-lumin bar in questa parte. Abbiamo anche un piccolo supermercato all'interno. Poi qui si va verso il piano secondo con gli ascensori. Qui c'è una lunga fila di stanze. Poi con queste immagini terminiamo il video.